Conosci i tuoi campioni. Un brasiliano atipico. Nato nel 1972, Rivaldo è stato uno dei giocatori più talentuosi di fine anni 90 e primi 2000. Contraddistinto però, da un'aria triste e malinconica, arriva in Europa nel 1996 al Deportivo La Corugna e gli basta una stagione per essere acquistato dal Barcellona. Qui Rivaldo si consacra, vince quattro titoli e alza a cielo da protagonista la Coppa del Mondo col Brasile nel 2002. In quella stessa estate passa al Milan e, dopo appena cinque partite, mette a segno il suo primo gol in Serie A. Rivaldo, non c'è pressione sul brasiliano campione del mondo e il Milan va in vantaggio. Rivaldo segna il suo primo gol in gara ufficiali con la maglia del Milan. Tiro non fortissimo ma estremamente preciso. Chiuso da Kakà però, Rivaldo lascia Milano nel novembre 2003 e inizia un lunghissimo peregrinare tra Brasile, Grecia, Uzbekistan e Angola. Chiuso con il ritiro a 43 anni.